Il Pagante è un gruppo di ragazzi, così mi sembra di aver capito, che ha un canale ufficiale Johnny Il Pagante e ha appena pubblicato da qualche settimana, ma neanche da dieci giorni, un video musicale che vi suggerisco, eccolo linkato qui in alto, lo mettiamo in questo punto, e si chiama Sbatti. E' un video ovviamente molto giovanile, che praticamente va a riprendere però con molta profondità alcune tematiche attuali tra i giovani, per esempio il concetto appunto di coloro che si conformano alle mode del momento, coloro che scelgono i vestiti non secondo il gusto personale, ma secondo il gusto del momento. Quindi questa canzone va a dipingere praticamente il cosiddetto pagante o anche coloro che cercano di conformarsi ad una pseudo-ribellione e a farsi brutto e a usare un certo tipo di linguaggio come zio, frate, socio, bro, a un certo tipo di camminata e oppure a cercare di somigliare a coloro che praticamente sono cattivi, ma che cattivi soltanto come surrogato. C'è tutto un lungo tema che andrebbe analizzato e studiato a fondo, ma io segnalo per il momento l'aspetto comunque mediatico, 333.000 visualizzazioni in 10 giorni, grande successo, ma poche parole e andiamo subito a vederci sbatti, official video del pagante. Ciao a tutti!